Ma come faccio a capire se sto bevendo acqua a sufficienza e quanta acqua dovrei bere lungo la giornata? Questa è la domanda che mi viene fatta 100 miliardi di volte su tutti i social, dal vivo, i pazienti, gli amici, i follower. Tutti fanno prima o poi questa domanda, come fare a capire se si sta bevendo a sufficienza e quant'è la quantità giusta di acqua per noi. Non c'è ovviamente una risposta universale, bevi un litro e mezzo, bevi due litri, bevi un litro, bevi ne quattro, non c'è la risposta universale, ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha esigenze diverse. Quindi come fare a capire? Ci sono delle formule, tipo quella che dice bevi tot acqua ogni tot calorie che assumi durante la giornata, l'altra formula dice bevi tot acqua ogni tot kg di peso corporeo. In realtà non dobbiamo complicarci la vita, il metodo per capire se stiamo bevendo a sufficienza e quanta acqua bere durante la giornata è molto semplice e intuitivo. Dobbiamo semplicemente guardare le urine, quando andiamo a fare la pipì osserviamo il colore delle urine. Se sono scure, non quelle di primo mattino ma durante la giornata, se sono molto scure allora vuol dire che stiamo bevendo troppo poco, se sono chiare tendendo al trasparente vuol dire che stiamo bevendo a sufficienza, se sono invece perfettamente trasparenti e andiamo in bagno ogni due per tre, vuol dire che stiamo bevendo probabilmente troppo. Quindi quant'è la quantità di acqua da bere durante la giornata? Dipende, guarda la pipì e capirai se stai bevendo a sufficienza o meno. Ah, refreshing!